italiano. Comunque di lei hanno scritto, riesce a strappare sorrisi ma anche a gettare scompiglio nel sistema ormonale maschile. In molti appunto le riconoscono una carica erotica molto forte, lei si sente sexy, si sente sensuale? A tratti, ve lo giuro, a letto sono proprio basica, a parte dormo con una facilità, cioè è un attimo che russo se non sei, se non ti inventi qualcosa. E si sente a suo agio? Quando mi spoglio? Con i nudi, con le scene di nudo? Ma io te lo dico Francia, a me si arriva il bonifico, sto sempre a mio agio. Certo, non ho un problema. La domanda è se le piace. No, che mi piace, no, non è che dico è bello, oggi vado e la faccio vedere a tutti, no, non è che è proprio una cosa che la mattina mi sveglio entusiasta di far vedere, insomma, le parti. Dico la devo fare, mi fanno il bonifico, la faccio, insomma. Però non sono proprio, mi spoglio. E beh, ma c'è chi piace, eh? A voi, ah. Eh, lo so. Però io vedi, a differenza non faccio nomi e cognomi. Ah, ti è. Io so della Magliana, poi. Eh, esatto. Comunque... Allude. No. E che vuole dire? Beh, no, non so più di che siamo a parlare. Esatto, per qualche giorno, persino io ho perso il filo. Comunque, il trailer di Cosa fai a Capodanno è stato lanciato su Pornhub. Lei dice, quando l'ho saputo sono rimasta un po' così, visto che nel trailer è presente il mio sedere in bella vista. Quindi ho pensato, mamma mia. Ma ancora non l'hanno levato? Eh. Sta ancora lì. Il trailer. Ah. No, dico, però l'hanno levato. Eh, però voglio dire. No, allora, sì, dunque, lì mi dà un po' fastidio, anche se lo fanno uguale, quella accezione lì, perché comunque io lì sto facendo un film, no? Cioè, un regista, una cosa, sai, stai facendo un film e stai lavorando. Non è che proprio ho detto adesso mi metto il mio sedere, no? Ci stanno, però, perché c'è Olly, la conosci? Sì, la conosco, certo. Guarda, se ci iscriviamo io e te un sacco di soldi, eh. Lo sai che facciamo? Facciamo i dei piedi. Ma lei lo farebbe, sinceramente. La voglia. Che chi me frega, ragazzi? Cioè, quelli fanno benefici forti. Non ho capito la differenza. Ma lei guadagna adesso. Cioè, manco ti toccano. Ma scusi, no, per fargli conti in tasca, però lei adesso guadagna. Sì, vabbè. Però gli è rimasta un po'. Ma i bonifici non si rifiutano mai, dai. Eh.